Allora, Gabriele Severino di Severoni di 13 anni, suona da un anno, Giulia Dorza di 13 anni, suona da un anno, e la piccolina Lara Lentini, scusate l'emozione, che suona da quattro mesi, ha 11 anni. Ma ti emoziona ancora? Sempre, soprattutto quando suonano i miei allievi. Fantastico. Se suono io, meno, ma se suonano loro. Io dopo ci fai ascoltare qualcosa? Sono loro che fanno il concorso. È giusto. Un, due, tre, quattro. 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 Grazie. 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 Grazie.